Oggi lunedì 2 dicembre 2019 stiamo vedendo il laghetto più grande dei laghetti di biotopo di Marco che sono rinati dopo dopo un mese di forte pioggia questo dei laghetti di Marco è il più grande poi c'è quello più piccolo anche quello colmo di acqua la mia caniolina è per stare in meridin